Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo. Continuiamo a parlare di WandaVision, ci concentriamo sull'episodio 7 oggi, sempre reazione a caldo. Ho appena finito di vedere l'episodio, parlerò un po' con voi delle mie impressioni. L'episodio di oggi ha un titolo che ricorda il rompere la quarta parete, però non c'è nessun riferimento a quello che è successo nell'episodio 3 in cui appunto Monica Rambeau viene buttata fuori dalla quarta parete, è più un riferimento a come hanno girato l'episodio. In questo episodio c'è un chiaro riferimento alle serie tv dedicate alla famiglia dei giorni nostri, degli anni 2020, 2012-2020 se vogliamo essere precisi perché c'è un chiaro riferimento a Modern Family, ovvero il fatto che tra un momento e l'altro della vita di tutti i giorni di questi personaggi vediamo i protagonisti interagire direttamente verso la macchina da presa, quindi parlando come a un intervistatore che poi in realtà siamo noi spettatori che guardiamo. Tecnica usata anche in The Office per esempio, ma nelle serie tv a stampo familiare è diventata famosissima a Modern Family per questo. Devo dire che da questo punto di vista si sfrutta anche fin troppo questo espediente, in un episodio di mezz'ora come Wandavision è anche un pochino pesante, un pochino più che pesante e ripetitivo, ma a parte questo l'episodio è forse il primo episodio che non ha veri e propri colpi di scena, tranne forse per una piccola cosa che poi ne parliamo più tardi. C'è un colpo di scena grosso, ma devo dire che tutti i fan ancora prima che uscisse Wandavision già se l'erano autotelefonato con i loro azzeccatissimi sospetti. Per il resto, diciamo, c'è un piccolissimo colpo di scena tra le righe che si può intuire, se poi andate a vedere tra i personaggi dei fumetti, si può capire che forse è nato un nuovo personaggio. Se non volete ulteriore spoiler all'episodio di oggi, vi raccomando non continuate a guardare l'episodio perché farò spoiler dell'episodio di oggi e anche degli episodi precedenti. Spoiler tra tre, due, uno. Allora, in questa puntata, che appunto è ambientata ai tempi moderni, diciamo, non c'è più Pietro Maximo, interpretato da Ivan Peters, che era stato buttato, spinto all'indietro da Wanda nello scorso episodio, ma chiaramente non era stato eliminato, non è stato eliminato, è stato semplicemente spintonato perché ha litigato con la sorella, la sorella che scopriamo appunto essere sì l'artefice di questo mondo di WandaVision, ma di, come dice lei stessa, ai suoi figli, di non avere tutte le risposte. Lei non si rende conto di come ha fatto tutto quello che ha fatto. E forse scopriamo proprio oggi perché, già lo sospettavamo, perché in realtà forse non ha fatto tutto lei, in realtà c'è lo zampino di qualcun altro. Questo qualcun altro è il personaggio di Agatha Arkness, che è il personaggio appunto di Agnes, come tutti i fan della Marvel hanno intuito fin dall'inizio, anche a causa del cameo che aveva addosso, che è un simbolo importante del personaggio nei fumetti. Agatha Arkness è legata a doppio filo con Mephisto, si sa, adesso c'è quasi un meme in giro di come tutti i Marvel fan individui in Mephisto in ogni episodio di WandaVision. Ovviamente non si è ancora visto nulla, però dal momento che la storia nei fumetti è legata particolarmente a questo personaggio, può essere che dietro le fila di questa trama complicata ci sia proprio questo personaggio. L'altro, diciamo, piccolissimo colpo di scena, nel senso che il colpo di scena di Agatha Arkness dovrebbe essere quello più grande, e hanno fatto anche una sigla dedicata, però alla fine i fan già lo sapevano dall'inizio, si capisce che lei è la cattiva, che è lei che riesce a controllare persino Wanda, che è lei che ha gli stessi poteri di Wanda, ha una strana aura viola, a differenza di Wanda che c'è la rossa, non si sa come ha ottenuto questi poteri, perché vi ricordo che comunque nel Marvel Cinematic Universe ancora non esistono i mutanti, le persone potenziate, le persone con i poteri sono appunto potenziate da qualcosa. Wanda e Pietro Maximoff erano stati potenziati grazie a una gemma dell'infinito. Quindi bisogna capire questa Agatha Arkness, innanzitutto se è umana nel Marvel Cinematic Universe, se non è umana e se è umana, se è stata potenziata, in quale modo e da chi. Questo sarà uno dei tanti misteri che spero vengano risolti alla fine di WandaVision, ma più probabilmente potrebbero essere risolti in qualche altro film, come appunto Doctor Strange and the Multiverse of Madness. L'altro colpo di scena, un po' sotto le righe, diciamo, è il fatto che Monica Rambeau tenta di nuovo di entrare nell'esagono, diciamo, in questa cupola creata da Wanda per proteggere appunto il suo WandaVision, il suo Westview. Quando tenta di farlo appunto con dei mezzi militari per appunto non farsi del male, perché proprio come ha detto Darcy nell'episodio scorso rischia di farsi male, perché le sue cellule sono già state modificate una volta quando è entrata nella cupola, se lo fa di nuovo potrebbe subire dei danni molto gravi. Quando tenta di entrare appunto con dei mezzi militari non riesce, però si sa, abbiamo già visto il carattere di Monica Rambeau come è particolarmente impulsivo nelle azioni militari, vediamo che entra fisicamente. senza protezione, quindi entra a piedi, diciamo, di nuovo nella cupola come ha fatto la prima volta, con molta più fatica perché questa cupola potenziata da Wanda nell'episodio scorso è molto più resistente, vediamo che quando entra qualcosa cambia in lei, ha dei poteri. Se voi andate a vedere il personaggio di Monica Rambeau nei fumetti, è il secondo Capitan Marvel e questo spiega anche il legame tra lei e Carol Danvers, nel film Capitan Marvel del 1990. Quindi c'è una seconda Capitan Marvel, non mi riferisco a Miss Marvel, a Kamala Khan, che è un altro personaggio con altri superpoteri, mi riferisco proprio a Monica Rambeau, che una volta entrata nella cupola, per l'ennesima volta, guadagna questi strani poteri. Nei fumetti li guadagna comunque anche lì da un'energia cosmica, quindi perché no, perché non guadagnarli dalla modifica della realtà da parte di Wanda, che a sua volta è stata potenziata da una gemma dell'infinito, quindi ci può anche stare come creazione di un personaggio. Vediamo appunto che è stata potenziata oltre al fatto che vede un attimino la realtà modificata, quando gli si diventano gli occhi azzurri, vediamo anche che a un colpo di Wanda riesce a resistere rispetto all'altra volta. Quando Wanda cerca di atterrarla, scaraventarla a terra, lei atterra parando il colpo. Vi ricordo che Wanda è riuscita a tenere testa da sola a Thanos, quindi dovrebbe avere dei poteri belli forti Monica Rambeau. Per il resto vediamo un episodio insolito dove appunto Wanda e Visione ormai hanno strade separate, Visione ha la sua trama con Darcy, in cui riesce a liberare Darcy dalla morsa mentale di WandaVision e insieme cercano di dirigersi appunto da Wanda per capire cosa sta succedendo. Visione è stato salvato da Wanda nell'episodio scorso, ma perché lui stesso tentava di uscire dall'esagono, Wanda ha semplicemente salvato Visione espandendo l'area dell'esagono e appunto inglobando anche Darcy, che è stata appunto liberata da Visione. Stanno cercando entrambi di dirigersi da Wanda, ma in realtà non fanno realmente nulla di concreto, quindi è un escamotage per tenere due personaggi un po' occupati per concentrarci su qualcos'altro. Questo qualcos'altro non è nulla di che appunto rispetto ad altri episodi. Vediamo, c'è anche una piccola parte in cui vediamo i bambini di Wanda che interagiscono un pochino con la mamma, vediamo Billy che continua ad avere poteri extrasensoriali, continua a sentire del rumore in casa di Wanda e vediamo invece Tommy che finalmente è vestito di verde come la controparte fumettistica perché appunto quando è Speed, il nome suo da supereroe, non è vestito come Pietro Maximoff di azzurro ma è vestito di verde. Quindi qua lo vediamo con una tuta verde e vediamo che Agnes si vede Wanda molto stanca e si da brava vicina vuole occuparsi dei bambini quindi li porta a casa sua a giocare ma poi quando alla fine dell'episodio persino Wanda arriva a casa di Agnes i bambini non ci sono più e finalmente scopriamo quello che già tutti annusavamo ovvero che Agnes non è altro che l'antagonista Agatha Agnes addirittura ha ucciso Sparky, il cagnolino nel terzo episodio, se non sbaglio nel terzo o quarto episodio ha ucciso il cagnolino dei ragazzi. Scopriremo cosa c'è sotto anche perché in questa puntata a differenza delle altre c'è una scena dopo i titoli di coda quindi se non l'avete vista andate a recuperarla dopo i titoli di coda vediamo Monica Rambeau che cerca di entrare anche lei dal capanno nella casa di Agnes e lo scopriamo che è la casa di Agnes perché appunto c'è questa magia viola lungo tutte le scale del capanno e vediamo che viene sorpresa niente po' po' di meno che da Pietro Maximo o comunque da quello che dovrebbe essere Pietro Maximo che a quanto pare è un altro dei trucchetti di Agnes per controllare Wanda quindi dobbiamo capire appunto se è davvero Pietro oppure se è un impostore ovvero dobbiamo capire se è davvero il Pietro Maximo del mondo degli X-Men e quindi esiste davvero il multiverso e Agnes è riuscito a prelevare questo personaggio da un altro universo o semplicemente e spero di no ma mi sa che ormai si andrà in questa strada è solo una strizzatina d'occhio al fatto che Evan Peters ha interpretato lo stesso personaggio in un altro universo e lo hanno semplicemente riutilizzato perché potevano ma niente di più semplicemente potrebbe essere un impostore un vero e proprio impostore non come Monica Rambeau che era vista come un impostore da Wanda nel terzo episodio ma qualcuno mandato da Agnes per controllare Wanda che in realtà non è nessuno di particolare semplicemente un cattivo piuttosto che una creazione un parto della mente di Agnes non si sa mi dispiace perché avrei preferito che finalmente il multiverso nascesse grazie a WandaVision può ancora succedere però non lo so se questo Pietro davvero viene dal mondo degli X-Men sembra un po' tirata per i capelli stavolta la cosa però magari troveranno il modo di spiegarlo hanno spiegato già tante altre cose quindi perché no fatemi sapere voi cosa ne pensate scrivete qui sotto nei commenti se state seguendo WandaVision se vi è piaciuto questo episodio più di altri o meno di altri condividete il video con tutte le persone che conoscete che amano la Marvel e iscrivetevi al mio canale mettete un bel mi piace a questo video attivate la campanella delle notifiche per rimanere sintonizzati per il prossimo video di WandaVision che uscirà ovviamente settimana prossima e su tutti gli altri video che usciranno nel canale io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti